musica 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 benvenuti benvenuti ragazzi io sono Alex e io sono anche Jesus e voi siete delle brutte persone quindi oggi siamo su questo bel gioco siamo su Five Nights at Freddy's che vuol dire che tu bisognerà passare sei notti in questa casa allora aspetta un attimo non so se è giusto ci sono sei notti non hai detto una cazza c'è anche la sesta cazzo volevo trollarli invece non ci sei riuscito comunque non è detto che faremo cinque notti perchè potremmo riuscirci potremmo non riuscirci potremmo non farci potremmo morire male potremmo morire male Freddy fazzi pizza allora io non ho minimissima idea 120 euro a settimana è mezzanotte prima notte ok siamo partiti oh cazzo cos'è come è partita adesso c'è le luci ok siamo su Five Nights at Freddy's e lo sto radiciando da notte mutalo no no non c'è niente di cui preoccuparsi ma pigli per il culo pigli per il culo pigli per il culo e guardiamo il primo è un'introductora che mi sembra di leggere è un'altra cosa è un'altra cosa è un'altra cosa che non mi piace è un'altra cosa si si è un'altra cosa è un'altra cosa è un'altra cosa e la carpetta è riportata bla 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 è un'altra cosa è un'altra cosa ma non c'è niente di cui preoccuparsi come non c'è niente di cui preoccuparsi non c'è niente di cui preoccuparsi si è un'altra cosa ecco ok si ecco il coniglio si assolutamente necessario ci debba conservare il poder bene buona night buona night ma tua sorella solo due adesso solo due ma non penso che nella prima volta ci sono spaventi serve molto come tutorial beh speriamo Ma è sempre qua? Quanto dura un muro? Ah non lo so, non lo so, non lo so, dove è andato quello là? Eh non so, qua non si può vedere. Audio only perché? Oh! Cos'è? Perché sono disabilizzati tutte? Forse non c'è più energia. No, 53%? Non lo so. Ah, è sempre qua. Ok, ok. No, perché non c'è. Magari è andato qua, non so. Mi sono cagato un po' sopra un attimo. 3 di notte! Ah, salve! Eh sì, certo, poi. Ehi, quando si può vedere. 4 di notte. Non c'è più cicca. Chi è? La gallina. Cicca. Eh, cioè, no, 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 no. Tu non hai capito niente della vita, zio. Non hai capito niente? 5. Vediamo ancora, ti prego. No, i rumori strani. No, i rumori strani. Perché mi voglio male a tutti io. Non c'è più ciccina. Ah, ciao! Ciao! Che sei in casa? Dai, dai. Ciao. Ciao. Sono buono. Dai. Ancora lì. Oh, due ore sulle 5 di notte. Oh, mezz'ora. Salve. No. E per quanto rimane chiusa? Per quanto vuoi. Ah, allora non vuoi chiudere subito. Inizio. Era solo la prima che ti metto a punto. Perché questa musica va più felici? Cos'è? Io non ho felice. Non ho felice, ragazzi. Fa molte palle. Ah, ok. Non male. Stavolta l'ho mutato. No, 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 no. Cazzo, l'ho subito. È qua, è qua. Sono 12. Non puoi farti cazzi tuoi. Non vedo dei conigli o strunzi. Forse è qua. Strunzi, lì. È qua non c'è. No, Freddi è ancora lì. Ah, lo sento passi. Mi sono mossi, vero? No. No. Bene. Ciao. La luce. Sono lì. Salgo via? Sì. Sì. Le due ci ha attaccato, le due ci ha ricostrato di muore le sei. Sì, alle prima ci ha attaccato le sei solo per tipo, per farci vedere che cosa mi vado di fare. Sì, casa ancora qua, vero? Sei una brava persona, bravissimo. Sì. È brutto che io mi perdo banni. Così. Mi perdo banni io. È una cosa incredibile. Come faccio a perdere un animatroni che è a grandezza? È in dupe. Guarda! Ma cosa sarebbe questo? No, è qua. No, l'ho visto. È qua. Oddio. È una pizzeria questa. È una pizzeria questa. Davvero? Sì, davvero. Anche adesso è un bambino. Ciao, 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 ciao. Cazzo che mi merda. È sparito, cica. Posso aprire? L'ho per caso di chiuso. Cazzo vuol dire che siamo osso freddi, vero? Che? No, non siamo osso. Allora perché c'è freddi? Eh, qua. Sempre lì. Stai lì. Più che altro non so dove c'è. Ma adesso è strunza, eh? Eh, sì. Sono le quattro al 31% di carica. Sì, non tiro. Ma toh. Vattene a cuore. Te lo dico. Posso andare via? Sì. Po- Sì. What the fu- U- A- P- P- Cucati! Eh eh! Ma sei il cranini, lui? Boh! Cinque di notte, cinque di notte, cinque di notte. Foxy non ti morite. È vero o sono buona persona? si aspetta forse adesso mi attacca a cica vanni non fare lo strumuso no è qua cica è qua è lì da un 10% cazzo ho il 5% strunzi eh si è poi Gesù poi Giuseppe e Maria puttana oh cazzo 3% ti prego arrivo le 6 si è trovato un'interinità mi sa 5 1% 1% 1% è sempre domani ok notte 3 perchè partiamo 99 io voglio il 100 notte 3 siete delle brutte persone comunque è da è da è da fare un monumento a noi perchè no 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 è qua è qua è qua è qua è qua è qua fiquei è qua è qua E poi? E' già qua! E' lì? Perché si vede lì? Perché lo vedi lì? Ah, c'è la finestra, non ho capito qua Stai, ti ho finito a me Che aspetta un momento buono Stai Ma l'osso bastardo all'ultima notte viene No, no Quando l'anguante viene Oh No Ah, 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 ah Ciao Mori, mi hanno vinto Mi sei spostata? No, è sempre qui Sei sempre qui a cadere il capello, bravo Ti stai lì, si è spostata Siamo al 70% E' nulla Secondo le mie foto di calcoli, ciao cica Ehm, non ce la faremo mai nella vita Ok Tecnicamente possono arrivarmi solo quando sono qua, no? Si Ok, tu sei ancora lì, stai lì Deve usare di vedere la luce e non controllare quando non vedi che sono lì E' infatti Piano piano Iniziamo a gestire la situazione Ma anche questo consuma, questo lo sai Ah beh Eh sì Due di notte, 54% Non ce la faremo mai Bello Giuro Due di notte, attenzione, forse abbiamo una possibilità Quattro, cinque, sei, manco molto Pianco Questa è il freddy crey Questa è stata la mia Ok Eh, questa è la mia E' tra lì Questa è la mia Non ho ancora visto buoni Umbanni Lo so Era lì mi ce l'aveva visto Posso aprire? hai battuto le ore, ci stai... le ore, ci stai... non lo vedo, non lo vedo oh, là oddio, 39 cazzo... eh, siamo più lì un po' cazzo si Calvino, 36 fate arrivare alle 4 35 eh...ah lo volevi? io non lo volevo ti ho detto che hai voluto seat dov'è, seat dov'è eeeh, guarda... Non ho detto che è strainformato sull'argon? Le ore c'è stato No, l'ho usata troppo volte Nooo Ma c'è calivera Nooo Si ricordo No, no, no Nooo No, no, no No, no, no Perché eravamo le quattro Erano le quattro E non potevo chiudere Quindi Allora Faremo un'altra puntata Perfine mi è piaciuto Io non voglio fare un'altra puntata Si che la faremo Dobbiamo andare avanti Se il video vi è piaciuto mettete mi piace Iscrivetevi E noi ci rivediamo a una nuova puntata di Questo bellissimo gioco Se c'è scritto lì cosa Lì Quindi Five Nights at Freddy's Quindi Bella ragazzi No Nulla fatto No No Levati Devo scavare io Oh Sto scavando io Ho tre cuori Ho due cuori e mezzo Smettetela di coltello Vai Fottigli la roba Fottigli la roba Fuggiamo Scaviamo Ma sapete che io sono qua Ti aspettiamo P 好 Terima Questa La giusta Che Questa Questa